allora era importante ovviamente l'augurio è che diventino superstar anche loro parliamo di questa band indipendente di torino che dal 2017 regala musica e soprattutto regala anche belle immagini di langhe roero e monferrato le amministrazioni comunali vedendo i nostri lavori precedenti hanno detto noi crediamo in voi non volevamo fare una cosa simile alla canzone dei pu originale noi abbiamo creato un prodotto diverso per riuscire a rinfrescare la memoria di un qualche cosa che ha fatto la storia della musica c'è chi ha gridato al sacrilegio e chi invece ha detto io sono fan dei pu da anni e anni questa canzone mi è piaciuta i miei nipoti i miei figli l'ascoltano e la ballano e questa è una grande soddisfazione quindi l'abbiamo fatta rock l'abbiamo fatta pop abbiamo fatto la balla l'abbiamo fatta reggae tante versioni e alla fine è un'inedita versione dance l'originale ha una strofa che con accordi maggiori noi l'abbiamo ribaltata in accordi minori abbiamo cambiato un po' la struttura del ritornello questa sonorità un po' dance con le mie chitarre tintin con le chitarre tintin sicuramente ha aiutato la giovaneità di due sindaci come persone che in generale proprio la comunità di questi paesi cioè è stato ci sentiti proprio accolti da questo periodista a casa insieme a giovani con sindaci giovani il nostro regista cosimo morleo grande che ringraziamo ha fatto un ottimo lavoro cosimo è arrivato a fare il sopragosti si è lotto il cambio della macchina e quindi è partito con i migliori auspici e quindi chi fermerà la musica? a oggi non noi anzi oggi non si è fermata a oggi non si è fermata